GF VIP, addio alla casa del fratello, ecco quanto è costata. Il GF VIP è uno dei reality show più popolari e ogni anno, i concorrenti trascorrono mesi all'interno della casa del grande fratello. Un grande open space situato negli studi televisivi di Cinecittà. Ora che però le reality è giunto alla fine. È ora di smantillare tutto e c'è chi ha provato a fare due conti. Sappiamo che la casa è composta da diverse stanze tematiche e ha anche un'area esterna con una sauna, una piscina e un giardino coperto e scoperto. Inoltre, negli ultimi anni la casa del grande fratello è stata resa eco-friendly ed è dotata di un impianto di sorveglianza H24. Ma quanto è costato tutto ciò? Gli open space di questo tipo nel mercato immobiliare sono valutati tra i 200 e i 480 euro al metro quadro. E considerando la grandezza della casa del grande fratello, l'arredamento e gli accessori al suo interno, si stima che il prezzo possa aggirarsi attorno ai milioni di euro. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion Italy, Music, Summer from Benson Leggi anche, le ultime immagini della casa vuota del GF VIP, ecco cos'è rimasto sul tavolo. Grazie a tutti. Grazie.